Ciao, se vuoi scoprire, oh beh, sigla! Ciao, io sono Luca e sono youtuber e di solito racconto una storia mia facile e veloce, ma oggi ti spiegherò l'organizzazione dei miei video. 43 video, 17.000 visualizzazioni e 74 iscritti in più, questi sono solo i risultati che ho ottenuti in tre mesi dei numeri irraggiungibili, o meglio, pensavo. Questo tutto grazie a voi che mi seguite, ma anche ai miei inseparabili haters. Però ora è settembre, fa poco iniziare a scuola e io essendo uno studente devo iniziare a studiare, quindi vedremo un po' come ho organizzato i miei video nell'anno scolastico. Ci saranno tre short a settimana, uno il mercoledì, uno il giovedì e uno il sabato. Farò un solo video lungo al mese e sarà di venerdì. Questa è l'organizzazione per YouTube, infatti da poco ho anche Instagram e TikTok, infatti loro avranno un'organizzazione un po' diversa, infatti ci sarà il video del giovedì, il video del sabato e della domenica. Il video per oggi è finito e vi raccomando se sei uno studente vai subito a finire i compiti. Se l'hai già finito, bravissimo! Comunque io vi auguro un buon inizio a scuola e noi ci vedremo sempre qui su questo canale la prossima settimana. Ciao!